La prima interrogazione, Sindaco Maria Ferrucci, un Assessore, non si presenta in giunta comunale per tre mesi, etc., 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 Consigliere Giacomo Di Capua, prego. Grazie Presidente, buonasera, buonasera ai presenti e buonasera a chi mi ascolta da casa. Interrogazione, Sindaco Maria Ferrucci, un Assessore, non si presenta in giunta comunale per tre mesi. Abbiamo sentito più volte in quest'Aula parlare di spreco di danaro della vecchia giunta comunale Graffea. Ricordo che si è fatto un accenno alla autovettura con autista che veniva usato dal signor Sergio Lillo Graffeo durante la sua legislatura. Pare di aver sentito dire che il costo di questa vettura con autista si aggirava a 60.000 euro. Abbiamo sentito dire, pare, che l'ex Sindaco usava una carta di credito del Comune. Oggi questi sprechi o benefici, se così si può dire, pare che avesse il signor Graffeo, lei, signora Sindaco Maria Ferrucci, non ha voluto più avvalersi, quindi ha fatto una scelta sua personale. Noi, come cittadini di Corsico, come cittadini che io rappresento, le siamo grati e la ringraziamo, signora Sindaco. Noi tutti sappiamo che lei, nella vecchia giunta, era un punto cardine di quel governo. Non devo ricordare la carica importante che aveva, assessore alla cultura e sport del Comune di Corsico. Chiedo, se un assessore di questa giunta da lei preseduta venisse a mancare per tre mesi nell'arco dell'anno, non per malattia o per maternità, ma per cose personale, lei, sindaco, gli corrisponde l'aspettanza economica o inviterebbe la persona a rinunciare, visto che la sua assenza, oltre quella di assentarsi, aveva una figura importante per la collettività. Quindi era un costo questa persona. Quindi, oltre a venire a mancare, c'era anche un costo. Visto che lei ha scelto di non avvalersi e di rinunciare a qualunque beneficio economico, se un caso simile capitasse a lei, in questa giunta, in questo governo, rifiuterebbe le aspettanze economiche che le sono dovute? Grazie, signora Sindaco. Allora, innanzitutto non riesco troppo a capire cosa centri la premessa con la richiesta di chiarimenti sulla questione successiva, ma comunque qui molto spesso le premesse sono sempre un po' stravaganti. Allora, la cosa che invece lei chiede è se un assessore della mia giunta non viene per parecchio tempo in giunta, se percepisce oppure no quello che le aspetta. Innanzitutto, io voglio sottolineare che tutti gli assessori, come tutte le persone di questo mondo, possono avere problemi personali che possono essere di vario tipo, siccome fanno questo lavoro oltre il loro lavoro, è ovvio che qualche volta può succedere che uno non si presenti in giunta. Questo non significa che non stanno facendo il lavoro di assessore, perché il lavoro di assessore non è soltanto il fatto di essere presenti oppure no in giunta, ma il fatto di essere presenti in altre circostanze sul territorio, negli uffici, a coordinare il lavoro ovviamente dei tecnici, e anche nelle varie manifestazioni o iniziative. Quindi il lavoro dell'assessore è un lavoro, diciamo, complesso, che non è soltanto fatto di presenza oppure no in giunta, ma è fatto di presenza in molti contesti, che non sono solamente la giunta. E' ovvio che siccome questo caso non si è presentato, io non mi sono posta il problema, ci sono delle persone che a volte hanno problemi di lavoro e che non possono venire, e questo non significa che però non stanno facendo il lavoro di assessore come è giusto che sia, e quindi a questa domanda onestamente rispondo che quando si presenterà una situazione di questo genere mi porrò il problema e ovviamente se è, diciamo così, semplice non attenzione al ruolo che la persona ricopre, ovviamente uno provvederà a dire, forse è il caso che ci salutiamo, ma se invece le, diciamo, le circostanze sono importanti verranno valutate una volta che si sa il motivo, insomma, perché i motivi personali non è che sono a volte delle stupidaggini, possono essere delle cose importanti, quindi vanno valutate di volta e per volta. Dichiarazione di soddisfazione o meno? Prego, consigliere di carta. Sì, devo dire che sono soddisfatto di quanto afferma il sindaco. Non riesco a capire un qualcosa che vorrei che lei, se poi, può farlo o in avanti, quando dice che un assessore non serve in giunta, ma serve più per iniziative, no? Io penso, se ho capito bene, dottoressa, ho capito male, ho capito male, ho deciso di essere sereno e tranquillo, mi scuso, ho capito male. Ma una cosa è fondamentale, signora sindaco, che è una questione etica, una questione morale di ognuno di noi, che se io manco tre mesi nell'arco dell'anno e poi vado a percepire lo stesso, lo stipendio complessivo annuo, lo so che lei fa specie vedere la signora Pina che viene a parlare a voi e non viene a me a parlare qua. Cioè, comunque, signor Presidente, come le ho promesso, anche in questo caso, starò in silenzio. Starò in silenzio. Arrivogici al Presidente. Speriamo che lo fa sempre così. Perché fino adesso veniva qua e dice mettiti vicino, vai lontano. Allora, il problema che dicevo, signora sindaca, è la questione morale di questa persona di questa persona che, diciamo, in quel momento, nell'arco dell'anno ha percepito uno stipendio come se ha lavorato. E quindi io so bene che lei, signora sindaca, non può proibire alla persona di prendere lo stipendio. Ma io con questa mia interpellanza voglio far notare che, voglio, chiedo, che se dovesse capitare o se è capitato, la persona stessa, per rispetto, per abbassare i costi, no? Dovrebbe quantomeno rinunciare. Perché sono convinto che se è mancato tre mesi di qua, se è mancato tre mesi dal lavoro, o era in malattia o era in maternità. Quindi ha percepito lo stipendio lo stesso perché è garantito. Ma noi non dobbiamo certamente garantire, signora sindaco, a un assessore che, per l'amor di Dio, lo può fare, eh? Perché nella sua coscienza dice a me non mi interessa. Quindi è una cosa che io ci tengo a far sapere alla città che probabilmente se faccio questa interpellanza probabilmente ho dei buoni motivi per farla. Comunque io la ringrazio, sono soddisfatto e quindi a me va bene così. Replica al signor Sindaco. Allora, replico non perché lei ha detto anche che era soddisfatto, ma perché mi preme chiarire che... Allora, faccio un esempio personale così ci intendiamo. Io ho fatto l'assessora nella giunta precedente, io sono insegnante, il martedì, che era il giorno della giunta, erano i giorni dei collegi docenti e dei consigli di classe. È ovvio che se in quella giornata c'era il consiglio di classe o il collegio docenti, io, anche se ero assessore qui, non potevo mancare dall'altra parte perché è un impegno a cui l'insegnante deve essere per forza presente. Non credo di aver rubato soldi a questo comune perché negli altri giorni io ero assessore a tutti gli effetti. Il sabato e la domenica, se c'era nell'iniziativa, ero presente e quindi questo è il motivo per cui io penso che siccome il ruolo di assessore è un ruolo un po' più complesso di soltanto la presenza in giunta, penso che nessuno ruba nulla a nessuno se svolge in maniera, diciamo così, onesta il lavoro che svolge. Passiamo alla seconda interrogazione. Perché l'assessore Guastamacchia scrive agli inquilini della cooperativa Unione Familiare di Corsico? Consigliere di Capo Grazie Presidente Ho piacere oggi proporre questa interpellanza alla città al Comune di Corsico ai consiglieri comunali e alla cooperativa che io ho chiamato in questa lettera è chiaro che il mio avvocato scriveva il sottoscritto è stato eletto dai cittadini a tutela e interesse nei rapporti tra le persone e l'amministrazione comunale quindi io sono qui perché sono stato eletto e ho il dovere di verificare e controllare Va bene signora Sappiamo tutti le note vicende accadute ultimamente a Corsico un cittadino di Corsico si presenta in una adunata convocata dal Consiglio Comunale munito di un registratore con una registrazione auto fatta da un telefonino personale quella sera i presenti abbiamo apprezzato la determinazione del sindaco che si è confrontato con il cittadino con arroganza e la propotenza la casa non si ottiene e quanto il sindaco sosteneva quella sera lì apprezzabile anche la difesa che la stessa ha fatto ai 53 cittadini che sono in graduatoria prima di questa persona abbiamo letto nei giorni successivi su tutti i giornali le stesse frasi di quella sera nel palazzo comunale alla fine quanto sentito e letto il risultato è stato contrario alla volontà del sindaco perché quel momento lì l'abbiamo apprezzato tutta la tenacia poi come si è posta proprio da vera responsabile del di Castero alla persona è stata trovata una sistemazione dignitosa nel centro di Corsico alla faccia dei 53 in graduatoria per la casa popolare tutti questi tutti questi fatti hanno portato ai dei cambiamenti in materia di responsabilità per alloggi derivanti da convenzioni urbanistiche sto parlando di alloggi di emergenza pare che sul tema della casa a Corsico è cambiato il responsabile non capisco questo cambio se per demerito di chi aveva prima questa responsabilità o per meriti conseguiti sul campo dall'attuale responsabile questo cambiamento subito si è fatto sentire a Corsico pare non per un'azione positiva a sostegno della casa ma di sconforto per le persone coinvolte loro magari che una casa ce l'hanno già per la prima volta credo non ce ne sono nelle parti dell'Italia non so in Europa nel mondo per la prima volta un assessore si rivolge con una lettera datata 3 ottobre 2013 che alleggo come oggetto è locazione immobile inviata ad un locatario della cooperativa Unione Familiare di Corsico ricordo che la stessa ha sottoscritto una convenzione con i comuni di Corsico per gli alloggi di proprietà della cooperativa Unione Familiare di Corsico sito in via Grandi 24b l'assessore scrive per chi non ha in mano questo documento in riferimento all'alloggio da lei occupato è di proprietà della società cooperativa Unione Familiare si chiede di produrre entro 15 giorni dal ricevimento della presente presso l'ufficio De Magno di via Roma 20 a Corsico copia del contratto di locazione in essere lettera di assegnazione dell'alloggio e qualsiasi documento idoneo approvare il possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione in essere tra la cooperativa e il Comune di Corsico al momento dell'assegnazione finisce questa lettera tale richiesta è motivata dalla necessità di completare e integrare i dati già in possesso degli uffici comunali per una corretta gestione di rapporto locativo credo che questo assessore non ha titolo di chiedere documenti alle persone che occupano gli alloggi di via grande 24b che hanno sottoscritto un contratto d'affitto privato con la cooperativa scusate lo stesso assessore a mio parere non ha nessun titolo di chiedere altresì i requisiti richiesti oggi che hanno permesso di accedere agli alloggi in convenzione questa documentazione a mio parere va chiesta alla cooperativa che stipula i contratti di affitto con i loro locatari ripeto loro locatari i requisiti richiesti credo sono facilmente reperibili negli uffici comunali in quanto da convenzione l'amministrazione comunale ha solo il compito di segnalare la coppia quindi la documentazione è già in comune le cose private non mi risulta che si possono chiedere i requisiti richiesti sono nella determina ripeto i requisiti richiesti sono nella determina che firma il dirigente di settore è approvato dalla giunta mi sono informato non è mai successo da nessuna parte del mondo che un politico protempore possa chiedere perché noi tutti siamo protempore se qualcuno non lo sa non è che noi rimaniamo qui a vita per l'amor di Dio un politico protempore possa chiedere ad un cittadino che stipula un contratto privato con una cooperativa la proprietà che è l'alloggio di proprietà di questa cooperativa questo al massimo lo può fare il dirigente funzionare che è protempore cioè che è a tempo indeterminato probabilmente qui ho fatto un errore no che protempore non è non è non ho sbagliato questa volta è sorprendente che dopo la mia interrogazione presentata una determina può essere disattesa ricordate quell'appartamento che ad agosto 2012 non è stato dato a quel ragazzo che aveva fatto la richiesta pare che la cooperativa chiede ai locatari inviati dal comune con determina di sottoscrivere un nuovo contratto di affitto ripeto pare come pare che la stessa cooperativa chiede con una sua lettera al demagno e patrimonio e ufficio tecnico comunale di cost di sostituire un subalterno con un altro subalterno ora si chiede ora si chiede questo però per l'amor di Dio ho detto che starò tranquillo mi chiedo perché sta accadendo tutto questo solo adesso ritenendo le richieste fatte con la lettera inviata ai locatari di via Achillegranti 24 via Corsico non sia di pertinenza del firmatario della stessa chiedo se la lettera inviata è stata condivisa con il dirigente del settore comunale di Corsico noi tutti sappiamo chi è questo dirigente se la stessa lettera inviata è stata condivisa dalla cooperativa unione familiare di Corsico se i locatari di via grandi non dovessero presentare al comune la documentazione richiesta posso signor Presidente rischiano uno sfratto dal comune di Corsico o rischiano uno sfratto dalla cooperativa unione familiare se la documentazione richiesta eventualmente presentata ai locatari al demanio e al patrimonio di Corsico risultasse non avere requisiti cosa succederà questi potrebbero essere considerati abusivi se il dirigente che ha preposto la determina e la giunta comunale che ha approvato qualora si accerta che non aveva i requisiti la persona proposta alla cooperativa potrebbe incorrere una sanzione o un improvvedimento chiamiamolo disciplinare infine pare si vocifera che in questo comune mai dico mai è esistito un archivio di dati riferiti a contratti di affitto tra privati e cooperative anche se questi fanno parte di una convenzione perché a Corsico non abbiamo solo la cooperativa unione familiare che ha una convenzione con il nostro comune ma noi sappiamo pare che questi non sono stati intercettati non si sa neanche chi sono chiedo di sapere da quando è attivo a Corsico questo archivio signor presidente prima che l'assessore mi risponde io le ho mandato una lettera dove dico che da oggi cercherò di stare alle regole voglio essere rispettato e voglio non voglio essere insultato perché diversamente lei sa cosa posso fare cosa devo fare la ringrazio per cortesia solo risposte a quanto io ho chiesto diversamente la ringrazio signor presidente bene parto dal fondo ringrazio il consigliere per questa ultima indicazione spero che sia lo stesso ad avere lo stesso atteggiamento che mi sembra particolarmente costruttivo quindi lo saluto positivamente questo nuovo atteggiamento sulla premessa c'è poco da dire nell'interrogazione spesso si fa una ricostruzione dei fatti assolutamente discutibile su cui oggettivamente molto non c'è da dire la domanda le questioni che vengono poste peraltro c'è un po' di confusione perché una serie di temi o meglio se ho capito bene evidentemente una delle questioni che sottopone consigliere comunale è quello della più o meno competenza dell'assessore al demanio e quindi alla casa nel inviare una lettera agli occupanti di immobili di proprietà privata con i contenuti di cui lei diceva quindi la ringrazio per aver anche cercato di dire quali sono i compiti degli assessori e dirigenti però forse qualche puntualizzazione si rende necessario necessaria ha fatto bene a sottolineare il fatto che esiste una convenzione tra comune e cooperativa questo è ha fatto altrettanto bene a sottolineare il fatto che il contratto di locazione è un contratto di locazione tra privati quindi tra la cooperativa non è familiare e gli assegnatari mi corre però l'obbligo a ricostruire il perché siamo arrivati a questo punto come sapete ne è stata data comunicazione a giugno mi sono state attribuite dalla signora sindaca le competenze le deleghe sulla casa patrimonio ed emanio e una delle prime diciamo attività che sono state fatte è stata appunto quella di fare una ricognizione rispetto al tema del patrimonio immobiliare comunale di proprietà dell'ente ma anche ottenuto in questo caso come segnalazione attraverso le convenzioni urbanistiche voi sapete che noi abbiamo proprietà di edilizia quindi immobili comunali di cui ovviamente abbiamo un'anagrafe perché sono assegnatari inviati da noi sia sulle nostre proprietà che sulle proprietà ALER abbiamo alcuni alloggi in emergenza che vengono gestite appunto con queste caratteristiche dal settore servizi sociali diciamo questo è l'unico patrimonio che viene gestito e questa è stata una divisione interna diciamo sia la parte tecnica amministrativa che la parte politica gli alloggi in emergenza appunto hanno questa caratteristica di rispondere a emergenze che nascono soprattutto in ambito sociale per dare risposte tampone molto circoscritte nel tempo proprio perché possono nascere delle situazioni che vanno appunto tamponate nel tempo e esistono anche degli alloggi ed è questo l'oggetto di questa interrogazione che derivano da convenzioni urbanistiche allora noi sostanzialmente ad oggi abbiamo otto alloggi con queste caratteristiche sei alloggi derivanti da una convenzione urbanistica appunto con la cooperativa unione familiare e altri sei alloggi derivanti da un'altra convenzione urbanistica attiva da alcuni anni con la immobiliare ideal sempre di Corsico che oggi è diventata cooperativa costruzione generale di Vigevano per altri due alloggi le caratteristiche di queste convenzioni evidentemente le conoscerete nello specifico la convenzione con la cooperativa unione familiare l'abbiamo anche discussa un anno e mezzo fa proprio perché non so se ricordate viviamo 12 alloggi sei sono stati liberati da questo vincolo e sei sono rimasti e là dentro c'è sostanzialmente scritto il motivo per cui io in qualità di neo assessore con la delega la casa ho chiesto inizialmente a entrambi i soggetti quindi sia alla cooperativa unione familiare che alla immobiliare ideal oggi cooperativa costruzione generale l'elenco dei nominativi degli occupanti degli alloggi oggetti di convenzione affinché come scritto nella lettera si procedesse alla verifica dei requisiti e quindi si completasse sostanzialmente la base dati a noi disponibile perché la motivazione di questa cosa evidentemente è per appunto verificare e controllare così come il suo ruolo di consigliere e l'elenco appunto dai cittadini è quello di verificare e controllare l'operato di questa amministrazione è altrettanto vera che il nostro obiettivo in qualità di amministratori è quello di verificare e controllare che le convenzioni urbanistiche e quindi quello che c'è scritto nella convenzione urbanistica venga sostanzialmente rispettato noi tempi e questo è il motivo per cui siamo arrivati a questa richiesta di informazione dopodiché ci sono alcuni passaggi che andrebbero puntualizzati lei dice nella pagina 2 della sua interrogazione i requisiti chiesti nella determina che firma il dirigente e approva la giunta non è vero perché questo potrà confermarlo il segretario comunale una determina dirigenziale è direttamente esecutiva cioè non c'è sovrapposizione tra determina dirigenziale e poi delibera di giunta cioè la determina dirigenziale ha una sua percorso che se ha bisogno di un'indicazione da parte della giunta viene prima quindi semmai il percorso potrebbe essere il contrario però mi correga il segretario non credo che ci sia bisogno cioè una determina dirigente poi non viene approvata dalla giunta per cui venendo nello specifico alle domande che lei ha sottoposto direi che la risposta alla prima domanda se la lettera inviata è stata condivisa al dirigente del settore comunale di Corsico la risposta è che è stata condivisa ovviamente con il settore patrimonio ed emanio che ovviamente ha il compito poi operativo di verificare i requisiti su cui la parte politica non entra nel merito nel senso che forniranno i dati e si farà una verifica tecnica puntuale dei materiali forniti sempre per verificare l'aderenza rispetto alla convenzione che è stata stipulata perché l'unico contratto che esiste tra amministrazione comunale e cooperativo in unione familiare e immobiliare ideal è sostanzialmente la convenzione ed è là dentro che si ritrovano tutte le risposte alle domande che lei fa dicendo se la stessa è stata condivisa la cooperativa in unione familiare noi abbiamo chiesto sia la cooperativa che l'altro immobiliare l'elenco dei nominativi quindi non si può concordare una lettera che l'amministrazione invia al soggetto che dovrà ricevere la stessa noi abbiamo invitato a presentare la documentazione necessaria e evidentemente su cosa accadrà questa è una valutazione che noi faremo rispetto alla rispondenza di queste rispetto ai requisiti della convenzione quindi questi potrebbero queste sono sue considerazioni sulla quale non sono in grado di dare nessun tipo di risposta perché non ci sono la convenzione non disciplina l'ipotesi che lei ha prospettato quindi evidentemente noi siamo convinti che non ci siano condizioni di questa natura quindi il nostro obbligo è sostanzialmente quello della verifica ex post delle condizioni esplicitate all'interno della convenzione ed infine a noi non interessa perché non è nostro interesse avere i dati dei contratti di affitti tra privato però evidentemente la verifica che noi facciamo non è archiviare tutti i contratti di affitto che stanno sul territorio tra privati ma semplicemente verificare che lo stesso risponda ai requisiti della convenzione che prevede una serie di obblighi di questa natura quindi avendo stipulato una convenzione ripeto che nasce da una convenzione appunto di carattere urbanistico dove all'epoca hanno state fatte una serie di riflessioni cercando di rispondere a una necessità dei cittadini con determinate caratteristiche e il motivo di queste lettere che sono state inviate a tutti i locatari delle due cooperative della cooperativa unione familiare e dell'altra cooperativa di cui costruzione generale divisevano è sostanzialmente questo nulla di più dichiarazione di soddisfazione o meno prego grazie presidente saluto anch'io positivamente come ha risposto l'assessore alle mie domande non credo assessore che io faccio confusione perché è quanto ho scritto e sono con dei dati che io ho in mano però ripeto mi devo comportare bene lei dice che i patrimoni immobiliari sono di otto appartamenti di cui sei dopo quello che abbiamo già concesso e due sono della ideal costruzione lei mi conferma che anche questi hanno ricevuto questa lettera me lo conferma no benissimo questo mi fa piacere grazie per la sua correttezza perché noi viviamo a Corsico e ci informiamo poi voglio chiedere voglio chiedere ho capito bene dottore se no ho capito gli altri due non l'hanno ricevuto lei mi dice di no signori non l'hanno ricevuto il patrimonio immobiliare oltre alle cooperative io vorrei chiedere all'assessore se la stessa cosa è stata fatta con l'Aler perché l'Aler si trova sul nostro territorio i bandi vengono fatti da noi e quindi noi autorizziamo l'Aler avendo requisiti venuti fuori da una serie di cose quindi vorrei capire se in avanti con la sua nuova delega che ha farà questi accertamenti se avevano i requisiti anche sull'Aler e sulle case comunali io prendo atto lei dopo sicuramente prenderà la parola la prego di dirmi sì o no lei dice che questa lettera che io ho qui presente è stata condivisa col dirigente del settore beh siccome ho deciso di cambiare le ripeto che io so con certezza che il dirigente l'ho contattato io e non sapeva niente di questa lettera poi se il dirigente cambia cambia posizione signori qui è un rapporto fra uomini quindi a me mi è stato detto che non sapevo però prendo per buona quello che l'assessore stasera sta dicendo e condivisa l'ultima cosa io ho parlato se lei è a conoscenza che di una lettera inviata un'ennesima lettera inviata dalla cooperativa unione familiare che chiede di cambiare un subalterno io sono stato siccome non mi arrivano i documenti ancora oggi non so quali sono i nostri sei appartamenti io sono stato pur ho dovuto pagare sono stato a Milano all'ufficio delle entrate ho voluto verificare tutti gli appartamenti ho pagato per verificare non li ho potuti portare a casa perché mi costavano 140 euro però li ho verificati uno per uno li ho verificati mi hanno fatto sedere e ho fatto tutta la verifica ho preso degli appunti ho fatto delle richieste ancora oggi non mi sono presentato quindi io le chiedo lei ha conoscenza se non sbaglio perché è stata inviata al dottor Zuccherini questa lettra che ce l'ho io qua al signor Zuccherini e alla dottoressa Janzano se non sbaglio quindi dove chiedono di cambiare questo subalterno io mi sono informato anche di questo subalterno ho una mia visione del perché me la tengo in attesa di verifica perché poi se sarà necessario signor Assessore interrogheremo ancora scusa la parola farò un'interpellanza perché interrogare a me non mi piace questa frase farò un'interpellanza dove appurerò una volta per tutti quali sono i nostri sei appartamenti che noi dobbiamo segnalare non è di nostra proprietà per l'amor di Dio lo dice la cooperativa ma noi adesso cosa facciamo siccome non è nostra proprietà chiediamo fammi vedere il contratto fammi vedere il Dio la ringrazio signor Presidente non lo sappiamo ancora grazie signor signor Presidente non è soddisfatto è soddisfatto non è soddisfatto parzialmente sono soddisfatto la replica all'assessore Guastamacchia il microfono per cortesia certo signor no volevo puntualizzare due cose allora la prima gli altri due locatari dell'immobiliare ex immobiliare ideal attuale cooperativa costruzione generali ad oggi non hanno ricevuto lettera perché i proprietari dell'immobiliare ideal li abbiamo contattati in contemporanea con la società cooperativa unifamiliare abbiamo chiesto l'elenco dei nominativi quasi rapidamente l'unione familiare ci ha trasmesso i nominativi abbiamo avuto la possibilità di mandare la lettera siamo in attesa ancora oggi della trasmissione quindi di ricevere l'elenco dei nominativi dell'immobiliare ideal della cooperativa costruzione generali affinché anche loro riceveranno la stessa lettera con le stesse caratteristiche con le stesse modalità quindi no ad oggi non hanno ricevuto nulla perché evidentemente noi non sappiamo chi sono gli occupanti noi abbiamo fatto una segnalazione abbiamo chiesto l'elenco dei nominativi che una delle due cooperative non ci ha ancora comunicato e quindi non possiamo scrivere a chi non conosciamo questa è la prima questione la seconda questione che lei diceva però la invito anche a vedere la registrazione io non ho detto che il dirigente della partita ha condiviso la lettera ho detto che il settore De Manio ha condiviso la lettera che è uscito dal settore De Manio e Patrimonio che gestisce le case di Corsico dopo la delega del giugno 2013 ha condiviso la lettera che è partita questa è dopodiché i contatti le cose sono tutte assolutamente legittime perfetto lei dice settore io ritengo che il settore responsabile del settore è il suo dirigente non è per la partita certo non confonda però i settori probabilmente lei pensa al settore sì però sono settori differenti quindi vabbè insomma questo questo non è non è non è la questione quindi direi ah no ecco il subalterno il subalterno è oggetto di un errore materiale dovuto al fatto che è stato indicato nell'atto di notarile che è stato stipulato a seguito della delibera di consiglio comunale cioè in consiglio comunale non so se ricordate noi avevamo detto dei 12 appartamenti 6 rimangono e altre 6 diventano di su segnalazione di amministrazione comunale nell'individuare i subalterni è stato individuato un subalterno in modo erroneo che non appartiene sostanzialmente a questa partita e quindi su segnalazione la cooperativa ci ha scritto dicendo dateci disponibilità innanzitutto condividete il fatto che c'è stato un errore materiale questo è già stato condiviso quindi gli uffici si sono già espressi siamo in attesa della disponibilità del notaio per apportare questa modifica sul numero di subalterno che fa riferimento a degli alloggi che non erano neanche oggetto di questa convenzione quindi è un cosiddetto errore materiale di questo si tratta no no ma la questione non è legata al fatto che è più o meno occupato fa riferimento al fatto che è stato indicato un numero sbagliato grazie a tutti grazie a tutti